Ora, negli ultimi giorni ho avuto delle piccole discussioni che riguardano la possibilità stessa di strutturare un pensiero sistemico e alla conclusione di queste discussioni vi era sempre, o almeno in molti casi, vi è la considerazione del fatto che noi non possiamo essere sicuri di non stare sognando. Ora, come sapete, chi segue questo canale sa che questo problema dello scetticismo cartesiano io l'ho già affrontato in alcuni video precedenti e l'ho affrontato seguendo quello che è stato il pensiero e la dimostrazione di Crispin Wright del fatto che non possiamo accettare senza contraddizione le premesse fatte da Cartesio che consentono a Cartesio di costruire il suo argomento. Come sappiamo, e questo l'ho già visto, l'ho fatto già vedere, Cartesio risolve il problema chiamando in causa Dio, la bontà di Dio, la perfezione di Dio, che non potendo ingannarci in quanto bene assoluto, in seguito a questo noi potremmo dedurre invece che il mondo esterno esiste e che in realtà non stiamo sognando. Vi dicevo, vi è l'articolo di Wright del 1991. Per essere preciso, questo articolo Crispin Wright pubblicato nel 1991 è stato pubblicato nella rivista Mind al numero 100 di questa rivista e la dimostrazione portata dal Wright della non validità dell'argomentazione cartesiana va dalla pagina 87 alla pagina 116. È un articolo bello pienotto, cioè è un articolo di 31 pagine e sono 31 pagine da studiare. Il titolo dell'articolo è Quindi scetticismo, lo scetticismo ed il sogno, l'implosione del demone, traduzione mia, dove Wright appunto fa vedere la non validità dell'argomentazione cartesiana. Quindi vi dicevo, nelle discussioni con alcune persone sulla possibilità di strutturare un pensiero sistemico, si avanzava quindi l'ipotesi che il mondo esterno non esiste. Cioè non possiamo essere sicuri che il mondo esterno esista, perché non possiamo essere sicuri che non stiamo sognando. Arriva ad un certo punto della discussione, ho capito che era questo qui il fondo, diciamo, del pensiero di chi stava discutendo con me di questa questione. E allora gli disse, ma guarda che come minimo, se noi partiamo di un principio, da una forma di sapere che diremo essere una giustificazione per credere a qualcosa, quindi se per noi dire io so significa dire io sono giustificato a credere che allora Crispin Wright già nel 91 nella rivista Mind ha dimostrato che la dimostrazione dell'argomentazione cartesiana non è valida. A questo punto la persona che stava a parlare con me mi disse è andata a vedere questa dimostrazione, invece di spolparsi 31 pagine di Crispin Wright, cose che non è del tutto banale, è andato a vedere come il contenuto di quell'articolo è stato riportato da Annalisa Coliva, ve lo dico, in scetticismo e mondo esterno nel 2007. E quindi seguendo la formalizzazione e anche la semplificazione della Coliva si è convinto che in realtà vi è già, abbiamo già a disposizione sin dal 91 una dimostrazione che ci dice, guardate che l'argomentazione cartesiana non è un'argomentazione che noi possiamo ritenere valida nel caso in cui per noi il sapere significa giustificazione per credere a qualcosa. Ora, non so se oggi entro nel dettaglio di nuovo di questa dimostrazione perché credo che forse sono stato poco chiaro io o forse sono stato troppo conciso nei video in cui la presento, sembra che non sia chiaro l'importanza di questa dimostrazione. Arrivato ad un certo punto però mi sono accorto, mi sono ricordato del libro di Slavoj Zizek, il soggetto scabroso e dell'introduzione che Zizek fa a questo libro. Ora, ero curioso di andare a vedere, non ricordavo più, l'anno di pubblicazione almeno di questo libro di Zizek. Allora, si intitola The Ticklish Subject, The Absent Center of Political Ontology, è del 2000. Quindi, perché vi dico dell'introduzione di questo libro? Veramente è... Perché questo libro ha un'introduzione che comincia così. Uno spettro si aggira per il mondo accademico occidentale, puntini, lo spettro del soggetto cartesiano. Tutti i poteri accademici hanno stretto una santa alleanza per esorcizzarlo. E così via. Quindi in poche parole Zizek dice, siccome questo testo ci dice, siccome voi avete dimenticato, per così dire, o non volete vedere qual è il fondamento logico, argomentativo del soggetto cartesiano, per così dire, lo rimuovete, rimuovete il soggetto cartesiano. E dice che dal concepire la rimozione del soggetto cartesiano, arriva a pensare che è proprio il momento del distacco da parte del soggetto dalla realtà, dal mettere in dubbio l'intera, l'intera realtà, l'intera nostra condizione, dal mettere in dubbio quindi che esista un mondo esterno, da questo atteggiamento di messa in dubbio, da questa sottrazione totale dei contenuti del dell'esperienza fenomenica come contenuti reali o contenuti che si possono riferire ad un reale, si ha un'entrata, per così dire, per come la pensa Zizek, un'entrata momentanea nella follia della filosofia di Zizek che il meno che niente, al di sotto del vuoto non c'è un niente, c'è una frammentazione della realtà e la rinascita, la rinascita o la nascita dell'io e il tentativo di unificare questi frammenti negativi della realtà, senza senso della realtà, per ritrovarsi ad essere un soggetto pensante, in qualche modo unitario e strutturato. Quindi voglio sottolineare questo fatto, questa entrata momentanea nella follia, al di sotto del vuoto, al di sotto del vuoto, nel meno che niente, nel pensiero di Zizek è giustificato dal fatto che è valida l'argomentazione cartesiana. Ebbene, se nel 91 in mind Crispin Wright dice guardate che questa argomentazione non è valida, ben nove anni dopo, nel 2000, Slavoj Zizek è ancora convinto che l'argomentazione cartesiana sia logicamente valida, per condurre poi tutte le conseguenze politiche che egli coglie nel soggetto scabroso. Nel libro Il soggetto scabroso. Ora dico, ma questo atteggiamento, no questo atteggiamento, questa posizione in cui un filosofo non sa che cosa dice l'altro e quindi va per la sua strada, e quindi va, prosegue per la sua strada, come se l'altro filosofo non avesse parlato, beh, è qualcosa che non produce conoscenza, anzi produce vie, cammini, interi settori di ignoranza in filosofia, e non soltanto in filosofia. Questo, diciamo, questo modo di procedere per settori, anche all'interno della filosofia, e poi nel rapporto tra la filosofia e gli altri settori della conoscenza, veramente è qualcosa che conduce scuole, pensieri, correnti, verso un'ignoranza dovuta al fatto che vi è una mancanza di comunicazione con altri settori. Così in grande come in piccolo. Perché dico così in grande come in piccolo? Ho visto un post, non dico dove, non dico di chi, non mi interessa criticare le persone in particolare, dove si sta traducendo in inglese, in lingua inglese, si stanno traducendo in inglese, alcune si è già tradotto all'essenza dell'inichilismo di Severino in inglese, ma ora si stanno, per così dire, traducendo delle opere che si ispirano, delle opere, dei libri, dei testi, dei libri, che si ispirano al pensiero di Severino per criticare la tecnè, la tecnologia, eccetera, eccetera. Ora, anche qui, io lo continuo a dire, lo continuo a ribadire, non perché io sia un anti-severiniano, e io vi dico sempre, studiate Severino per capire dove ci sono gli errori in Severino, perché gli errori di Severino non sono errori così facili da trovare, sono sottili e difficile trovarli, ma il lavoro in realtà è già stato fatto, il lavoro è già stato fatto, principalmente il lavoro è stato fatto da Sergio Galvani, con due risultati importanti. Uno, ve lo ripeto, che riguarda l'argomentazione elenctica, ho ripetuto diverse volte, vi ho fatto una sintesi della dimostrazione di Sergio Galvani, l'argomentazione elenctica dice Sergio Galvani e lo dimostra, non è un'argomentazione fondativa, punto, ed è un risultato. L'altro risultato, e di questo avete qualcosa nei miei video. L'altro risultato è quello che Sergio Galvani presenta nell'articolo Il tempo è la realtà del divenire. Di questo non vi ho parlato, ma vi parlerò, perché a quanto pare neanche quest'articolo, che è nel 2006, è conosciuto. Neanche quest'articolo è conosciuto. Quindi lì, per quanto riguarda la, diciamo, la parte più critica, logicamente critica della filosofia di Severino. Per quanto riguarda la critica che Severino fa alla tecnica, è troppo banale questa critica. Perché se ne possano fare dei libri e perché se ne possa discutere. Però il fatto che vengono pubblicati dei testi oggi, scritti in inglese, su questo argomento, ci fa capire che o chi pubblica questi testi non sa le critiche, le argomentazioni che sono state fatte a Severino, oppure fa orecchie da mercante. Ora, io penso che alcuni, diciamo, come Slavoj Zizek, probabilmente non conosceva l'articolo di Mind scritto da Crispin Wright, così probabilmente chi pubblica libri che si ispirano alla critica che Severino fa alla tecnica, probabilmente non ha una conoscenza tale, diciamo, una conoscenza tale da essere critico nei confronti di Severino e quindi di muovere anche un'autocritica al proprio pensiero. pazienza. Slavoj Zizek non conosceva l'articolo di Crispin Wright, probabilmente, oppure anche Slavoj Zizek ha fatto orecchie da mercante. Però il problema è di carattere generale. Io parlo di Severino perché vi porto, per così dire, un esempio. Ve ne porto un altro che non riguarda Severino. Non nomino le persone perché non è giusto farlo, diciamo, senza la loro, non ho chiesto l'autorizzazione, quindi non le nomino. Vi porto degli esempi. Ho avuto modo di scambiare due parole, due battute, con un ricercatore che si occupa di teoria delle categorie. Teoria delle categorie è una di quelle teorie che oggi sono molto alla moda. Dicono che questa teoria delle categorie abbia cambiato l'aspetto della matematica del ventunesimo secolo, eccetera, eccetera. Non so se le cose stanno così. Non sono così addentro alla questione per dirvi che le cose stiano realmente così. Io, c'è qualche applicazione pratica della teoria delle categorie, però, non vedo tutta sta, come dire, tutta sta rivoluzione intorno a questo diverso modo di affrontare i problemi matematici. Però può essere che questa, appunto, sia una mia ignoranza. Col passare degli anni si vedrà. Esprimo questo pensiero ad un ricercatore che si occupa proprio di questo, abbastanza conosciuto, però, abbastanza conosciuto, e gli dico, ma non è che la teoria delle categorie fa la fine della teoria delle stringhe in fisica, teoria delle stringhe, se ne è parlato per 20-25 anni, poi non ha prodotto niente di pratico. No, dice lui, la teoria delle categorie ha prodotto già dei risultati. Gli ho detto di nominarmene qualcuno, mi ha nominato due risultati, veri e propri di matematica, che però non corrispondono, per così dire, alla richiesta che avevo fatto. Cioè, nel senso, la mia richiesta era, esiste un risultato, esiste un qualche risultato della teoria delle categorie, una dimostrazione, un teorema, che non può essere, che non può essere dimostrato a partire dalla teoria degli insiemi? A questa domanda non ha risposto. Mi ha detto che per alcuni risultati non si è mai trovata la dimostrazione a partire dalla teoria degli insiemi. Quindi rimane un po' lì il discorso. Però questo ricercatore si occupa anche dei rapporti, dice almeno, di occuparsi anche dei rapporti tra filosofia e matematica. Allora gli chiedo che cosa ne pensava di Alain Badiou, perché Alain Badiou, in logica dei mondi, utilizza la teoria delle categorie. Lui mi risponde qualcosa di orripilante. Cerco di capire perché. Gli chiedo perché è orripilante. Lui mi dice ha utilizzato l'assioma di rimpiazzamento in modo sbagliato addirittura. Gli chiedo dove. Non segue una risposta. Forse perché era troppo occupato, forse perché è troppo occupato. Non segue una risposta. Però il dubbio mi è venuto. E il dubbio consiste in questo. Forse, forse, non ha letto la logica dei mondi di Alain Badiou. Se no, sarebbe stato semplice rispondere. Sì, sbaglia, non dico la pagina, ma sbaglia questo argomento per questo motivo, questo motivo e quest'altro motivo. Quindi gli atteggiamenti che noi troviamo nei filosofi ce li abbiamo anche in altri settori, in altri settori della conoscenza. Addirittura atteggiamenti fra i matematici, no? Cioè, la vedo così perché la vedo così, ma la vedo così in fondo in fondo perché la voglio vedere così. Quindi è come se si creassero delle bolle di conoscenza che tendono a non comunicare con altre bolle di conoscenza. Arrivate ad un certo punto, siccome questo è, per così dire, un fenomeno all'ordine del giorno, che ne so, sui social, no? Io non frequento molto i social, però li frequento per capire un po' come stanno le cose, come vanno queste questioni. E noto una cosa. Ciò che accade è che si strutturano all'interno della rete delle sottostrutture. Queste sottostrutture cercano, per così dire, di costituirsi come compartimenti stagni. Cioè, come dei compartimenti che non comunicano con altri compartimenti. Non dico della conoscenza, ma in alcuni casi nemmeno dell'informazione. Alcuni compartimenti non accettano, per esempio, informazioni. Parlo per esempio dei gruppi Facebook, no? Queste bolle che si vengono a creare non accettano nemmeno le informazioni che, non dico le conoscenze, le elaborazioni di teorie, ma nemmeno le informazioni che potrebbero andare ad intaccare un minimo il fondamento, chiamiamolo teorico, chiamiamolo culturale, chiamiamolo antropologico, su cui si fonda quel particolare gruppo di Facebook. Ora, capite che a questo livello qui le conoscenze possono anche aumentare a dismisura. Cioè, la conoscenza può aumentare a dismisura. Che significa la conoscenza può anche aumentare a dismisura? Che ci può essere davvero chi, in questo mare magnum di informazioni, scopre qualcosa di importante, ma questo qualcosa di importante non è comunicato. E anche se viene, per esempio, ad essere comunicato, o anche se non è qualcosa di importante, ma è qualcosa che potrebbe anche cambiare l'atteggiamento, per esempio, di alcuni gruppi su Facebook. E creare quindi un diverso milieu dove si muove la comunicazione e l'informazione, questo non è concesso, capite? Al limite gli sarà concesso di crearsi il suo gruppo Facebook, la sua sottostruttura, che chissà come, e chissà quando riuscirà ad influenzare anche le altre sottostrutture. Allora, il mio primo problema, perché è anche un po' una mia malattia, ma c'è una spiegazione matematica di questo fatto? Cioè, primo problema. Ma una situazione del genere può essere spiegata matematicamente. Ebbene, intuitivamente, vi dico che una soluzione potrebbe essere il teorema di Ramsey. Cioè, nel senso che, se si ha un certo numero di elementi che possono costituire tra di loro delle relazioni, necessariamente, arrivati ad un certo punto, si costituiscono delle sottostrutture, escludentesi le une dalle altre. E sono proprio queste sottostrutture a costituire le bolle, che non sono solo bolle su Facebook, bolle culturali, bolle antropologiche, capite? Quindi, sì, probabilmente c'è una spiegazione matematica del fatto che si vengono a costituire, si viene a costituire la cultura come compartimentata, a compartimenti, a settori che non comunicano, la cui comunicazione con altri settori è molto, molto bassa. Quindi, vi è questa giustificazione. Ma la seconda, diciamo, la seconda, la mia seconda riflessione, è quella di dire, ma, scusate, allora, qua il problema è grosso, scusate, ma allora, giustamente, qual è il criterio, il principio da seguire? Qui, di nuovo, la filosofia, scusate se uso questo termine, la filosofia con la F maiuscola, si pone come qualcosa di estraneo a tutto questo meccanismo. Estraneo perché? Estraneo perché la filosofia non si è mai sentita un settore particolare, capito? E quindi, quale potrebbe essere l'atteggiamento del filosofo oggi in queste bolle di conoscenza compartimentate, settoriali? Quello di farsi contaminare, quello di essere un contaminante, un contaminatore contaminato continuamente, e quindi quello di vagare per questi mondi contaminandoli, stuzzicandoli, andando a vedere qual è, per così dire, il punto debole di ognuna di queste strutture, senza costituirsi egli stesso come una struttura, capite? Senza voler fare una struttura. Da qui una considerazione molto semplice e banale, almeno qualche considerazione semplice e banale. C'è niente da fare, c'è il filosofo che vuole e che non vuole, per essere filosofo si deve un po' occupare di tutto, cioè deve conoscere un po' di matematica, le basi della biologia, le basi della scienza, tutto ciò che riguarda i saperi del momento, del periodo storico in cui egli si ritrova a vivere. Deve farlo questo, altrimenti si ritroverà ad essere anche egli uno specializzato in un settore, il che è veramente, diciamo, la fine della filosofia. Quindi tutta quella critica che si fa alle specializzazioni, cioè che alcuni filosofi fanno al sapere scientifico come sapere settoriale, come sapere che si divide in mille rivoli di specializzazioni, è una critica che il filosofo deve fare alla filosofia stessa, perché la filosofia stessa, per così dire, si indirizza, tende a settorializzarsi, a specializzarsi in certi settori. E con questo, ed in questi termini, la filosofia manca al proprio compito. Ora, manca al proprio compito, ma questo è il punto. In un mondo in cui tutti vorrebbero sentirsi, tendono a sentirsi specialisti in un settore, come fa il filosofo? a dire la sua. Egli diventa, in un certo senso, quello che è da non considerare, da scacciare. Perché al filosofo gli si chiede, ma chi sei tu? Come dire? Ricordate la vecchia frase che si dice nei paesi? A chi appartieni tu? Qual è la tua famiglia di origine? In questo caso si intende la famiglia culturale di origine. Beh, in questo senso il filosofo è realmente un anarchico. Cioè egli non può avere una famiglia di appartenenza. Vedete? Ora, c'è un pensiero che tiene conto di tutto questo? Sì, l'unico pensiero oggi, al momento, che noi abbiamo a disposizione, affinché, che rispecchia questa situazione, è il pensiero sistemico, che tiene conto appunto delle relazioni. Il filosofo sa che non può essere egli stesso un soggetto fuori contesto. È sempre in un contesto e per questo si trova sempre in relazione ad un certo contesto. Ma non è detto che questo contesto debba rimanere fisso. Il timone, il timone che è un timone di metodo, non è un timone che riguarda i contenuti del pensiero del filosofo, il timone che è un metodo, è il metodo logico. Non c'è altro metodo. Non abbiamo altri metodi. Bisogna essere, da questo punto di vista, e a mio parere, strettamente logici nell'analizzare situazioni, pensieri, visioni del mondo, teorie, da un punto di vista, appunto, filosofico. Ora, non solo questo. C'è da dire che vi è anche una forma di difesa delle proprie idee, delle proprie convinzioni. Cioè, un gruppo Facebook, una bolla culturale, un settore specifico della conoscenza, tende, e ricordate l'Human, tende a autoconservarsi. Quindi tende ad autoriprodursi e ad autoconservarsi. Quindi questa forma di ostacolo alla contaminazione viene anche dalla necessità che hanno queste strutture di mantenere la struttura stessa, l'organizzazione o auto-organizzazione della struttura, e questo richiede quindi una forma di difesa. Quindi abbiamo, dal punto di vista generale, teorico, matematico, due motivazioni che giustificano la nascita di sottostrutture da strutture paradigmatiche. Struttura paradigmatica, abbiamo preso per esempio l'esempio di Internet, è una struttura paradigmatica, ma per il teorema di Ramsey essa si suddivide in sottostrutture compartimentate. Questa è un'intuizione, che comunque è un'intuizione avvalorata anche da risultati recenti. Se ce ne sarà tempo ne parleremo. L'altra motivazione è dovuta anche a motivi sistemici, che riguardano l'automantenimento della stessa struttura che si viene a formare. della stessa struttura che si viene a formare. Appunto, l'Human, i sistemi di potere e anche queste bolle culturali, antropologiche, su Internet, eccetera, eccetera, non sono altro che dei piccoli sistemi di potere tendono ad autoconservare il proprio potere e quindi per autoconservare quel piccolo potere si deve necessariamente creare una barriera, un ostacolo alla contaminazione. Quindi vi è, anche in questo caso, vi è una spiegazione teorica. Ora, ecco, questo per rispondere alle discussioni che ci sono state, però dal punto di vista filosofico questo non è molto produttivo, devo dirlo, perché fa sì che chi la pensa in un modo, un certo gruppo di persone che la pensa in un modo, continuerà a pensarla in quel modo e questo crea sì correnti di pensiero, correnti culturali, piccole o grandi che siano, però sono, per così dire, delle correnti che non, senza alcun fondamento, senza alcun fondamento filosofico. E ritorno alla questione di Severino, ritorno anche ad altri, cioè, quando vedo dei gruppi su Facebook che continuano a parlare, ad usare sempre lo stesso linguaggio nel parlare di Severino, ma anche quei gruppi che, per così dire, sono contro la filosofia di Severino, non escono dalla paradigma di quel tipo di parola, di quel tipo di linguaggio, rimangono chiusi in quel, diciamo, in quella struttura linguistica, beh, come vedete, è stagnante la situazione. Per non dire, poi chi ha ancora meno, meno problemi, meno problemi a, a credere all'eternità e a tutto il resto, e lì vediamo proprio una, diciamo, il concretarsi, il concretizzarsi in un pensiero della volontà di essere eterni, una concrezione della volontà di potenza nicciana attraverso il pensiero di Severino, che veramente fa ridere. Scusate, ma fa ridere. Ancora una critica senza fare nomi, senza fare nomi, perché non voglio fare dei nomi, però, quando ancora oggi si parla di Carlosini, e questa non è una critica a Carlosini, attenzione, non è una critica a Carlosini, Carlosini ha fatto la sua epoca, ha fatto la sua filosofia, ha operato e ci ha dato, per così dire, conoscenza a tutti, ok? Tutti quelli che hanno studiato un minimo di filosofia hanno dovuto prendere in mano qualche libro di Carlosini e istruirsi rispetto al pensiero di Carlosini. Quindi questa non è una critica a Carlosini, ma, ma, Carlosini ha fatto il suo tempo, di questo ne ho discusso anche in altri video. Ha fatto il suo tempo perché il suo, la sua conoscenza, il suo modo di affrontare il problema del linguaggio è stato ormai superato, superato dalle conoscenze che si hanno da Noam Chomsky, Andrea Moro, in poi. Carlosini non distingue tra sintassi e semantica di un linguaggio. E va bene tutto. Cioè, nel senso che noi possiamo anche leggere, ed è piacevole leggere i libri di Carlosini, hanno sempre qualcosa da insegnare. Ma se Carlosini non è, diciamo, nel suo modo di esporre la questione, non distingue tra semantica e sintassi di un linguaggio, e allora lì c'è qualcosa che non cuba, c'è qualcosa che non va, capite? Perché? Perché che non va. E non va nel senso che anche in questo caso Carlosini o ignora, o fa finta di ignorare gli studi di Andrea Moro, di Noam Chomsky, della linguistica, del problema della grammatica universale e compagnia, bella. Capite? Ora, tutto questo, questi risultati sui linguaggi naturali, sono risultati scientifici, non sono risultati, così, diciamo, fondati su un pensiero teorico, su speculazioni teoriche. Quindi è una filosofia che parla del linguaggio naturale. Oppure parla della tecnica partendo da Gelen, ma fermandosi a Gelen, e non ci siamo più. Capite qual è il punto? Non ci siamo più, perché non basta. Non basta tutto questo. Perché oggi abbiamo conoscenze diverse, più approfondite, di quelle che Carlosini utilizza nella sua critica, se così possiamo dire, alla scienza, e non fonda questi suoi argomenti sulle conoscenze che ci sono attualmente, che riguardano appunto i linguaggi. Ecco, questo per dirne un altro. Va bene, forse alla prossima volta riprenderò l'argomento di Wright, perché se non è stato chiaro cercherò di portare fino in fondo la dimostrazione, nei dettagli, perché sia chiaro l'argomento di Wright, che, ripeto, afferma che l'argomentazione di Cartesio non è un'argomento che, in base al principio di giustificazione della credenza, noi possiamo ritenere valida. Grazie e al prossimo video.